Comunque, per chi, visto che siete in tanti, sotto la piazza c'è un'altra casa della vestizione, per chi vorrà, non tutti, magari potete fare un giro, perché ci sono quattro, se il primo fila si abbassano, tutti quanti vedono, qua sta a mano, sotto la piazza, sono le zambogne, qua fuori? Non tutti, la casa è più piccola, qua verrà a suonare, non viene a suonare nessuno, sì, ora vengono, le zambogne sono andate qua, adesso... al centro no fallo spostare là al centro e al centro di tutti e si va bene ma almeno adesso generalmente sono le donne che ci mettono più tempo grazie 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 grazie